Massimo ci dimostrerà l'innesco di un verme americano. L'americano ha una caratteristica di avere degli uncini, sono i suoi denti, ma hanno veramente la forma di uncini, sono quattro uncini, per cui sempre maneggiarlo con cura. È un verme ricco di sangue ed è molto gradito a varie specie di pesci. Fa proprio della presenza di questo liquido ematico la sua forza. Purtroppo le condizioni di vento e le mani un po' fredde. Vai Massimo. Ed ecco un bel boccone. Ed ecco un bel boccone.